Il 98% della vita del pianeta è nel mare, pensate, il 98% e quindi questo 98% lo dobbiamo proprio difendere. Abbiamo visto che non possiamo più vivere producendo tanti rifiuti, tanti rifiuti che credono un sacco di problemi di smaltimento dentro il mare, dentro i fiumi, dentro i laghi, nel terreno. Quindi ognuno di noi può fare qualche cosa, ognuno di noi può essere anche l'istituzione, i bambini, le classi, i presidi, insomma facciamo tutti parte di questo meraviglioso pianeta e lo dobbiamo difendere. Dopo l'ordinanza sindacale per liberare il lungomare di Napoli dalla plastica non biodegradabile e non compostabile, nella stessa direzione parte l'iniziativa Scuole Plastic Free, aderendo alla campagna di Mare Vivo per eliminare la plastica a monouso negli istituti scolastici cittadini. Alla presenza dei ragazzi e degli insegnanti in rappresentanza delle prime scuole napoletane che hanno aderito, sono state oggi illustrate le modalità dell'intervento, che riguarderà l'impiego di prodotti usa e getta nelle classi, nei servizi e negli uffici della struttura. E adesso è un progetto di sperimentazione con quattro scuole cittadine che appunto chiede di eliminare l'uso della plastica a use e getta. Sembrerebbe una piccola cosa ma non lo è, perché facendo un calcolo ogni bambino porta una bottiglia al giorno, sono quattro istituti, sono 98.000 bottiglie in meno scaricate e non scaricate sulla città. E quindi immagino che se qui abbiamo buon successo, poi in un tavolo su cui si ragionerà anche con l'assessorato alla scuola, si allargerà a tutte le scuole cittadine. Ci mettiamo in linea assolutamente con quello che sarà la direttiva europea, che nel 2021 prevede appunto che verranno eliminate tutte le plastiche monouso, quindi usa e getta. Quindi le buone pratiche che partono invece dalle istituzioni, l'istituzione di Napoli in particolar modo, io sono napoletana quindi sono veramente orgogliosa che proprio la mia città parte su questa iniziativa e quindi far sentire che i giovani già l'hanno condivisa, perché è inutile fare le leggi se poi non sono apprezzate, non fanno parte di quello che pensi che sia giusto fare nella tua vita.